Da una creatura strana che nessuno riconosce e un ragno grande quanto un autobus, passando per un enorme serpente e ciò che sembra essere il re dei leoni, arriviamo ad un misterioso serpente marino e ciò che sembra essere il crabzilla. Ecco la nostra lista dei dieci avvistamenti che nessuno crederebbe, se non fossero stati catturati su Google Earth. Numero 10 Creatura strana L'Antartide non è solo una landa desolata e questa immagine di Google Earth lo dimostra. Ciò che sembra essere lo scaletro di una spaventosa bestia preistorica è stato trovato a circa 80 chilometri a largo della costa atlantica. Dalla foto non si può concludere con certezza di che animale si tratti e se una squadra venisse inviata sul posto, non si può garantire che questa strana creatura sia ancora nello stesso punto. Ma in base alla dimensione e alla forma, si tratta molto probabilmente di una foca. E come sempre succede su internet, ci sono un sacco di teorici del complotto che sostengono che si tratti di una specie sconosciuta o di un essere extraterrestre. Alcuni sostengono addirittura che non può essere una foca perché non ha le zampe posteriori. Voi cosa ne pensate? Numero 9 Ragno grande quanto un autobus Tra tutti i possibili avvistamenti mentre si scorre Google Earth, questo deve essere il più terrificante. Le immagini mostrano un insetto gigante su un isolo a largo della costa messicana. Sembra un ragno gigante dalle dimensioni di un autobus colastico. Ma ciò che ha spaventato di più le persone è che potrebbe essere il leggendario ragno mitico Jbafofi, una bestia che si credeva precedentemente abitasse il Congo. E se ce n'è uno su questa piccola isola vicino al Messico, potrebbero essercene altri. Gli ufologi che hanno scoperto per primi questa creatura sostengono che potrebbe essere un granchio gigante o un crostaceo simile. Io so solo che qualsiasi cosa sia, non mi piacerebbe andare a scoprirlo. Numero 8 Antenati degli umani Questa storia è piuttosto affascinante. L'archeologia ci aiuta a capire il nostro passato e il modo in cui ci siamo evoluti. Ma chi sapeva che un satellite sarebbe stato utile in questo sforzo? Lo sapeva il professore Lee Berger dell'Università di Witwatersrand a Johannesburg. Ha iniziato a usare Google Earth per mappare grotte e depositi fossiliferi senza sprecare fondi preziosi. Voleva condividere le sue scoperte con altri scienziati, ma non si aspettava di individuare nuovi depositi fossiliferi. All'inizio c'erano circa 130 siti noti nel patrimonio dell'umanità della culla dell'umanità in Sudafrica, ma con l'aiuto delle immagini satellitari, il professor Berger è riuscito a individuare quasi 500 grotte e siti fossiliferi precedentemente sconosciuti, nonostante questa sia una delle aree più esplorate dell'Africa. Uno dei siti ha fornito la notevole scoperta di una nuova specie, l'Australopithecus sediba. Era una specie di scimmia antropomorfa che potrebbe fornire alcuni pezzi mancanti del puzzle sui nostri antenati più antichi. Numero 7 Serpente gigante L'anaconda è uno dei film horror più famosi di sempre, ma ciò che hanno girato nel film potrebbe effettivamente esistere, ed ecco un'immagine a provarlo. Questo non è strano, divertente o inquietante, questo è proprio spaventoso. Uno scheletro di serpente molto lungo è stato localizzato in Francia. Sembra essere lungo quasi 30 metri, il che lo renderebbe il serpente più lungo di sempre, con un notevole margine. Fortunatamente tutto si è chiarito quando le persone hanno cominciato a capire che si trattava solo di una scultura in alluminio chiamata Serpente dell'Oceano. Dubito che l'artista abbia pensato che sarebbe stato visibile da un satellite e che avrebbe spaventato alcune persone, me compreso. Numero 6 Re dei leoni Questo è davvero fantastico, un segno del Re Leone visibile dallo spazio. Si trova a Dunstable, nel Regno Unito, relativamente vicino a Londra, ed è molto impressionante. Chissà chi ha avuto l'idea straordinaria di creare questo pezzo d'arte. Sicuramente è una grande attrazione turistica. Appropriatamente chiamato Lion Kingdom, non sembra speciale dal livello del suolo, ma utilizzando un drone o un satellite. Si può vedere l'intera figura. Il Re Leone è stato originariamente creato dallo zoo di Whipsnayt nel 1933 con 880 tonnellate di gesso bianco. Si dice che sia stato costruito come avvertimento per evitare che gli aerei a bassa quota spaventassero gli animali dello zoo. La cosa più interessante è che durante la Seconda Guerra Mondiale dovette essere coperto in modo che i piloti tedeschi non potessero usarlo come punto di riferimento di navigazione. 5. Ningen misterioso Questa è la prima grande prova che la creatura Ningen, delle storie popolari giapponesi, potrebbe esistere. Si suppone che abbia una lunghezza compresa tra i 20 e i 30 metri, e viva negli oceani dell'Antartide e nel sud dell'Asia. Ningen ha la pelle pallida e molte persone giurano di averlo visto. Qui, in questa immagine di un satellite di Google, possiamo vedere che Ningen, se questo è veramente il Ningen, può anche camminare. Ningen significa umano in giapponese, quindi dovrebbe avere caratteristiche umanoidi. Ma c'è una grande differenza tra un marinaio ubriaco che avvista un sottomarino e lo scambia per un mostro, le persone che vedono una balena inventano storie per i loro figli, e l'esistenza di questa creatura simile a un'iceberg. Numero 4 Misterioso serpente marino Mentre siamo ancora sul tema delle creature marine mitologiche e spaventose, eccone un'altra per voi. Questa immagine mostra le acque vicino alla Nuova Zelanda. Sembra che il mostro di Loch Ness sia reale, ma questo non sembra affatto Nessi. Questa testa massiccia o un tentacolo, qualsiasi cosa essa sia, sembra appartenere a una creatura che potrebbe divorare intere città. Immaginate quanto grande debba essere qualcosa per creare una traccia simile nell'oceano, visibile da Google Earth. È quasi incredibile. Alcuni dicono che potrebbe trattarsi della scia di alcune barche, ma è troppo grande per essere una scia di una barca. Tutto ciò mi fa pensare al Taniwa della mitologia Maori. Secondo le storie, sono guardiani sottomarini massicci e talvolta anche demoni. I Taniwa sono più grande di qualsiasi balena o squalo e vivono per un tempo indefinito, fino a quando non completano la loro missione. Numero 3. Creatura simile a un calamaro gigante Sorpresa sorpresa, un altro abitante gigantesco dell'acqua è stato avvistato quando qualcuno stava giocando con Google Earth. E questo potrebbe essere il più familiare a tutti, poiché sembra una creatura gigante con caratteristiche di calamaro e si fa affidamento alle storie e ai vichinghi. Questo è il kraken. È un leggendario mostro marino apparso per la prima volta nelle storie dei vichinghi, ma molte culture come quelle irlandese sostengono che creature simili vivano nelle loro acque. Anche alcuni marinai spagnoli del XVIII secolo giurano sulla loro vita di aver incontrato questo abominio. Anche se questo non è il kraken, il 99% delle acque è ancora inesplorato e nell'era mesozoica esisteva il plesiosauro. Molti esperti sostengono che c'è una forte possibilità che ci siano calamari giganti che vivono nelle profondità degli oceani e che non ne incontriamo mai perché vivono solo sul fondo. Se così fosse, ringraziamo i calamari giganti per non lasciare il fondo. Numero 9. Granchiozilla Avete mai sentito parlare di Godzilla? Ora incontrate Granchiozilla. Questa creatura è stata trovata in agguato a largo della costa di Whitstable, una piccola città nota per il pesce e le ostriche. Ma ora sono famosi per qualcos'altro. Il colossale mostro è stimato essere lungo 30 metri. E non solo il Granchiozilla è stato visto nelle foto, ma alcune persone l'hanno anche incontrato. Un uomo afferma di aver pensato che fosse un pezzo di legno galleggiante o della sabbia spostata dalla marea, finché non ha visto una gigantesca caela emergere lentamente dalle acque. Per me l'immagine è chiara come il giorno. Dobbiamo costruire una gigantesca trappola per Granchi, non solo perché sarebbe un enorme banchetto che potrebbe sfamare mille persone, ma anche per ovvie ragioni di sicurezza. Numero 1. Gigante alligatore Se pensavate che nulla potesse superare alcuni dei precedenti argomenti, guardate attentamente la nostra anteprima. Oh, non fatelo. Questo alligatore è così massiccio che è visibile su Google Earth. Gli alligatori sono famosi come animali grandi e pericolosi, ma questo è così grande che sembra irreale. Gli alligatori sono abitanti dei fiumi, ma questo prenderebbe facilmente il controllo di un intero mare. Non c'è da sorprendersi che gli alligatori siano sopravvissuti ai dinosauri. Se decidesse di uscire dall'acqua e farsi una passeggiata, potrebbe decimare facilmente l'intera città anche senza provarci. E voi cosa ne pensate di questa foto? Potrebbe essere falsa? Voi ci credete nelle creature marine giganti? Avete mai giocato con Google Earth? E cosa avete trovato? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto.